Siamo qua di Gesù Maria, come sapete siamo nella terza domenica di Palestina, nella barba, diciamo, di calentare, la festa di San Giuseppe, per noi, chiaramente, la mia nostra riflessione sarà divisa in due parti, la prima parte è il Vangelo, la seconda parte è un riferimento a una virtù di San Giuseppe, non vi anticipo perché facciamo un po' di suspense, che è chiaramente connessa al Vangelo che abbiamo ascoltato. Guardate che è una bella donna di questo Vangelo, eh? Il Vangelo della Samaritana ci farà capire, via, non comincio subito, non si riusciamo, alcuni problemi riscontantissima attualità mitesiana, di cui, alla luce di questo Vangelo, tutte le nuvole gradiate, tutte le ombre saranno ammantate dalla luce. Bisogna capire un paio di cose, vedete? È lungo il Vangelo, è tutto lungo, ricordate l'avrei fatto lungo, eh? Ma la parte è lunga, è che alcune cose richiedono del tempo, come vedete. Allora, la donna Samaritana. Allora, dovete sapere due cose. Qual è il problema di questa donna Samaritana? Vediamo chi lui non ha capito. Ah, qui giusto ce l'avamo tagliando un numero, e oggi subito, che c'aveva cinque marini, aveva fatto un po' lo stele, eh? gli stele, no, aveva fatto l'occorrenza, gli stele, c'eravano i nove, insomma, però la donna Samaritana mi si era fatta abbastanza da fare, giusto? C'è una situazione, che ora ti veniremo, di regolare, giusto? Seconda cosa, avete visto, dice, appena ci si avvicina, e si avvicina, facendo un gesto di vicinanza, oh, sta bene. Credete che la settima cosa? Per i denti, per un anno di parlare con una donna sarebbe significato la lontana, cioè, tu sei proprio la mezza tanca, perché con una donna non ti abbassi a parlarci. Dovete entrare, era così, non storcere, non parlare per il questo intera che sei tu, d'accordo? Cioè, già se un uomo guarda con una donna, non le parliamo, se un uomo è diventato per la donna, è la moro costituzionale, si avvicina più nessuno, non solo che ci parla, si avvicina e chiede una cosa a lei, dammi la pelle, le toglie le pelle le pelle le pelle le pelle le pelle le spolle, dice, vai se va, nel organismo, come vai? E tu, tra l'altro 7 giudei, adesso ve lo posso subito, chi troverà che sono la samaritana? I samaritani erano scismatici rispetto ai giudei, e tredici, si erano stacchetti nelle musole, avete visto quando la donna gli chiede, senti un po', ma ci portiamo qua, volentieri per il problema del Giorgio Torema, e invece per la nostra regione, gli chiedono che tu andavamo qui, su Monte Cagliari, chiediamo qua e c'è un bypass, la saprezza è venuta ai giudei, però il problema è tutto, ma lo è tutto, io l'ho trovato moltissimo nel cuore, quindi il prossimo problema, tra l'altro ragazzi, scismati, eretica e adulti, e allora chiedi che succede? Cavallo la stranità, si è convertiti, ci capisci no? Vado agli altri, gli abiti, la loro, a quanto abbiamo lo salvato a loro, quindi vado da lui, e aggiungo la stranità, perché di ragazzi, guarda, non è tanto quello che ci hai detto tu, ma è perché abbiamo visto noi stessi, e questa è il salvatore, qual'è il truccamento di questo Vangelo? Allora, che per convertire il teccanone, che tra l'altro non si rende complesso della gravità delle cose che fa, tu non puoi vedere, allora, hai avuto il Vangelo? È lui, no? Cioè ci muove il tempo, cioè ci muove come se tu ci intessi un rapporto, un sacro fraterno, da morta, vicini a lui, e poi ci muove, gianna gianna, se vuoi fare un Vangelo che prende, c'è c'è, ma secondo voi la donna si convertiva, se si suonasse fatto così? Allora, vogliamo parlare poi Papa Francesco, della comunità di divorziati, che qua in India, lui dice una cosa, e tutti se lo diranno per una giacchetta, a fargli il contrario. Cosa dice Papa Francesco quando parla di accompagnare i divorziati in chi sta in situazione regolata? Vuol dire che che sta in una situazione? Com'è la nostra malattia? Ma non si prende l'otto della gravità della cosa che ha fatto altro, del sacramento del matrimonio? Io non le parlo, non dite che sono cattivo, eh? Un sottazio tra le persone sposate e dico, sai che cosa fai? Io non hai mai chiesto il sacramento sul matrimonio, tu capisci la gravità di quello che sta celebrando, è che è celebrato, forse voi con tutti i santi sì, ma va sicuro che la matrimonio si deve vedere, la risposta è no, non si rendono conto, così non i giovani che vanno a convivere, l'altro giorno, sapete che Papa Francesco ha dei convivetti, gli ha delle reti, la miseria, dico, se fa così, ma non è vero, se vuoi sentire il discorso, cosa ha fatto, non fate parloci, che se arriva una volta dei convivetti non ti andate a scusare a dire, ah, vai più fermo, perché il fine del parlo è che tu a questo ti fai capire la gravità che noi abbiamo fatto, perché non si rendono conto, io ci sto contando da anni con i convivetti, se tu arrivi a far pazzo con i convivetti, ah, sono ridursi per matrimoniali, perché non mi trovo, ma c'è quanto dei ragazzi convivono, allora poi lo fanno ammazzati, che sparano l'ucidio, che decide di andare in inferno, e con questa situazione è sorvibile, perché se queste persone capiscono che stanno beccando, che stanno con i convivetti discorsi, capisci? Cioè prendere un anno, accompagnare, farlo, io penso che sto dicendo una cittadina buaresima, qual è la cittadina buaresima? E cos'è la conversione? non lo sentiremo di dire fino all'alzio, come toccato l'unica scorsa, la vitalità contemporanea smarrina il senso del peccato, ci sono persone, forse anche io, forse anche tra di noi, che oggettivamente fanno delle cose gravi davanti a dirlo, ma non se ne vedono noi, cioè guarda una bambina, ma padre io non faccio niente di male, non c'è il nemico, dicono in Italia che la loro coscienza non viene di certe cose, allora che facciamo? non c'è il nemico, non c'è il nemico, non c'è il nemico, non c'è il nemico, non c'è il nemico cioè tu la mamma la devi accompagnare, e piano piano, il campo, in attualità, si apre il luogo la nuova samaritana, accettando la mamma che dice Gesù, non ha detto, guarda che se io non ci voglio andare a parlare con te, cioè, non c'è il nemico, ma Gesù, la presita, cioè la nuova samaritana, la presita, quindi la cotta, che ci sono la possibilità di di fare manci e di farci la tirata, invece di arrivare in maniera veloce, se è divertita, la lascia ora, diva un bambino, che è un bambino con disabilità, capite cosa vuol dire accompagnamento pastorale, prendono la persona, parlaci, un dialogo internazionale, e aiutare la nata a prendersi come tutte le cose, capite? quindi, state attenti, perché oggi c'è un po' di parlare, ma lei lo fate anche con me, non so, non so, perché? Cioè, tu dici una cosa, ti prendono, ti strumentalizzano le cose che dici, perché? Perché pensano loro certi cose, cioè, tutto il mondo ci chiede, sta aspettando che la chiesa dà la benedizione al peccato, capite? Ma la chiesa dà la benedizione al peccato, non lo porta, cioè non ha il potere di farlo, capite? Nessuno, e il Papa non c'è nessuna intenzione di farlo, io non sto su di stare alla testa di Papa Francesco, so che è il Papa, quindi il Papa non può avere nessuna intenzione di benedire il peccato, come anche lui, l'idea o quello fa parlare, quello fa passare, telegiornale, e come? E purtroppo, come vi dico, per l'esperienza, il Papa mi deve dire che, purtroppo, queste prete non le sentono, ma le sentono telegiornale, gli passa quest'idea, capite? E vi ricordate voi, per l'altro, chi per non lo diceva, la proposta è quello che possiamo fare con le tene, e dopo di più, spiegate. E attenzione alle cose, state sempre attenti a essere sempre molto, molto sensibili e intelligenti, capite? Perché non c'è alcuno che strumentalizza le cose che noi diciamo o facciamo su tutti i punti di vista, capite? Quindi fidatevi dei pastori, non dei massi miglia. Finito con le tene, l'abbiamo capito bene, eh? Adesso vediamo a San Giuseppe, sapete che San Giuseppe, tra le altre virtù, già non c'erano molti. San Giuseppe lo portava alla sposa, e di questa sposa è stato sposo, sapete come si viene da San Giuseppe? Sposo castissimo, oggi chiederemo un po' sulla castità di San Giuseppe. Allora, potete sapere che San Giuseppe, se io mi dovesti vedere, ha fatto la Madonna a San Giuseppe? Si o no? Si. E' stato vero amare il mondo quello con la San Giuseppe e la Madonna o no? Si. Ma voi ci sono i trattenuti, per non armi se sono espliciti, in atti brutali si o no? No. La Madonna o no? Ecco. E dice prima, durante e dopo in parte. Non sono mai espliciti. Eppure, l'amore di Giuseppe e la Madonna. La Madonna di Giuseppe è subito a quello di tutte le volte che si chiamano di stare. Altra cosa. Gesù il bambino era figlio l'anima a lei di San Giuseppe? No. E secondo voi San Giuseppe lo amava il suo bambino. Gesù il bambino amava San Giuseppe. Quindi vuol dire che il fondamento della paternità non sta nella paternità biologica, ma sta nella paternità biologica. Allora, vorrei sapere, chiaramente tra i conti, l'intesa del senso buono, deve finire il debito della castiglaba di Giuseppe, non il senso come le persone che non sono sposate, capite bene? Ma nel senso che prima di il linguaggio dei conti, l'amore del linguaggio delle armi, capite? La cosa più importante nel patrimonio è che ci sia un amore profondo, tra la sposa e la sposa, che precede comunque un'altra cosa. E dentro questo amore, anche i canti comunitari hanno un senso, un valore significato, è solo veramente stressivo, altrimenti inventano altro. Allora, c'è una parola, io sto usando questo libretto bellissimo, lo consiglio, che ne abbiamo parlato dopo, dato l'altro gruppo, fondatore del Santoro dei Comperi, con il mio recente, con molti, andremo il 6 di maggio, che parla appunto della castiglaba di San Giuseppe. Allora, che San Giuseppe ha fatto una grande maniera, perché San Giuseppe è un uomo di noi, eh? San Giuseppe non è stato concepito senza peccato originale, come la Madonna, quindi la sua castiglaba, è erotica e non evidente per la fatica che ha comportato qualcuno, che è un uomo vero, come medico, con un uomo di San Giuseppe. Allora, c'è, leggo, guarda come bella la pirata della castiglaba di Giuseppe. Per l'uomo di mio Dio, se lo so direi che negli spiriti vergini, che compongono l'accelo della ponte, non hanno mai assoluto una purezza così forte, così furiosa, così utile, così stupegna, quanto quell'uomo vergini, sul cui sembra prendere in direzione del nostro. Nelle intelligenze celesti la purezza non è che una proprietà della loro natura, ma in Giuseppe è il frutto di una grazia privilegiata. Essa è necessaria, quindi senza noi, non gli altri, gli altri sono le prime forze, non sono esseri sessuali, ma volontari, senza esempio, e intendi per la ricompensa in realtà nel santo sposo di Maria. Gli spiriti di Celestia conservano una sostanza impassibile. Giuseppe la piacerebbe portare in una carne, impassibile e portabile. Essa non possiede, se non lo spirito degli altri, mentre Giuseppe è gioccolato bella, la carne da virtù dell'acqua e del suo corpo buissimo. La verginità di Cristo Santo Padriacca, per questo guardate di A14, oppure guardate, è stata la figurazione di Stato Impasso di San Giuseppe, è sempre una figurata di Gillo Pianca, il simbolo della purezza. La verginità di Cristo Santo Padriacca era necessaria per il metodo del mistero dell'internazione, il quale era stato disegnato nel cielo. I figli di Dio lo dite, non ci sono di due pericolazioni, guarda, io sono depittore della vita romana. Maria, da un'acqua di maniera tutta pure divina, e Giuseppe, che si è conservato sempre vergine, per non impidire il nome di amore della grazia. Anche Maria, perché io devo il ruolo della mia maternità divina, a mio figlio, che mi ha letta nel padre, ma anche a mio caso lo sposo fu il custode della mia eternità, senza la quale non sarei stata la madre di Dio. Una lingua bontana non sarebbe capace di esprimere quale diventi essere la santità e l'innocenza di colui che fu scelto per tutti gli uomini ad essere lo sposo di un custode della futura e più santa di tutte le minacce, e quando la proprietà del suo cuore si avvengì per la sua odione con questa vergine parlata. Il tuo arco, come io dico, non aveva niente con questa vergine purissima che una parola, e vederla straordinariamente commossa su di nome, ma Giuseppe, più avventurato, gode l'intera libertà di parlare da solo a solo, di rimorare sempre con lei, di avere con lei i veloci e santi collochi, i quali consumano ci causano rubamenti dell'arco, ma verificano e consumano. Poiché come scrissi di San Romano all'Alessandro di Anna, la vista della bellezza di Maria, ispirata a chiunque la portava celeste e fragranze, che si debba di due sentimenti di purezza. la presenza continua di una vergine dei vergini, che cosa non voleva operare sul cuore di Giuseppe? Già uno, quando gli altri, aiutato seguito dalla sua infanzia, di un ruolo singolare con la santa virtù della castiglia. Soprò la produzione di San Giuseppe, guardo il piede, vuole anche l'avventura di conservare la virtù del fuoco, bello armanito della vita cristiana. alle persone che richiedono in un momento incerto per questa vita, che la nuova realtà è nascendata. Mi dice questo tanto che Dio concede questa motivazione. Le persone in una vita di cultura ammettata, cerchino di guardare il postbolo possibile di vicinarsi alla virginità, osservando che il punto è una castiglia che non viene o non lo stato. chi non può affinire a te lo principale del posto, si tratta la reggnerà dei sapeti, che serva pure il cuore dal valore del nostro desiderio del peccato. Non è del mio bacio di amore verso Dio, che talvolta assopera la morta di Sina, che a lui fa un nome. Santa che veniva da sempre a Santa Geroma, che era sposata, la parolessa di Chantalla, Santa Giovanna Tremio, che la sposava a Santa Francesca Romana, che è dedicata a uno spazio di 40 anni, santa, amici da me, in altri, amavano Dio più che lonti di aereo e di aereo. Chi non si trova il libro della virtù atletica, a un mezzo che era sicuro come gli angeli, non mi anzi, non mi anzi, non mi anzi, e d'anzi a capo che non è la sua moglie di bocca. Mi raccistava una cosa bella dedicata a un tuo rituale, abituale a livello del parco di vento di Tantina, a livello del nostro cuore San Giuseppe, nel corso di vita, rinnovato dal 3% di ogni volta, con grande e divocato affetto, San Giuseppe, padre di tutti, di tutti. San Giuseppe, San Giuseppe!